Salve mister ben arrivato ben tornato in Sardegna le prime sensazioni sono belle belle sempre belle sarà una ricostruzione per questo Cagliari con che spirito riparte il mio è sempre positivo quindi è uno spirito molto positivo vediamo la strada è tanta però lo spirito è positivo grazie grazie mister grazie grazie